Tomarchio, ma quando inizia sta diretta? Sta programmando la diretta Sta programmando, non ci vuole 4 ore, 5 ore I valori tecnici la sono in redazione, stanno preparando Tomarchio, hai visto le macchine della polizia? Sì, no, perché ero carabinieri, non era la polizia Sulla prima ci andavi tu, la seconda... La seconda... No, 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 no Tu te fai sempre fuori, è vero? Comunque tra poco iniziamo a registrare perché abbiamo trovato lo studio Studio 1, canale 1, studio 1 Va bene? Ecco Qualche raccomandazione perché è giusto Tanto è indossata la mascherina Cosa che tu non indossi Io Aleva mascherina Io faccio Freddi Mercoli 2 la vendetta Ma quelli che fanno la multa 400 euro Io sono a carico tuo Quindi Liban è tuo Tu non fa che io passi Però la carta entità gli deve avere tu Sì, ci siamo, aspetta Antonio Ci siamo Chiudiamo la registrazione Inizia la registrazione È vero? È vero? E vero? Grazie.